Zucche e pannocchie, covone di fieno e ragnatele, scheletri, zombie, vampiri e fantasmi, Halloween si festeggia a Cinecittà World fino al 4 novembre 2018. Il Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma si trasforma per un mese con 5 novità a tema, le scenografie e le musiche più spaventose della tradizione celtica. Al party inaugurale ha partecipato una madrina d'eccezione, Veronica Maia, che travestita da sposa cadavere, ha girato divertita nel parco provando tutte le novità e concedendo selfie e strette di foto a tutti i visitatori che l'hanno riconosciuta. Veronica Maia, con zombie e mostri, in vena di dolcetti e scherzetti, hanno dato il benvenuto agli ospiti di Cinecittà World. Tra le novità a tema, Cine Tour, Horror Edition dove i set originali della mostra si animano di creature viventi, mummie egiziane tra le scene di Cleopatra, zombie nel cimitero dei morti viventi e antichi romani tornati in vita. Animali, stregoni e cannibali sono protagonisti nell'area indiana Adventure, riuscirete ad attraversare indenni la foresta che vi avvolge? Il set di Aquila 4, il sommergibile originale del film U571, si tinge di sensualità horror con il percorso Contagio a luci rosse, dove sfiorerete muscolosi marinai in baglia di seducenti vampire sexy. Infine, per gli amanti dell'horror più estremo l'extreme show, di Scena al Circo Fellini. Arricchita da ulteriori effetti speciali l'amatissima Horror House, percorso al buio tra i set più terribili della storia del cinema horror. Da The Ring a Nightmare, dall'Esorcista a Venerdì 13, all'Antro di Lord Voldemort, ispirato dalla saga di Harry Potter, dove gli ospiti camminano a fianco dei loro peggiori incubi cinematografici. Menzione speciale per lo show a tema trucchi da paura, il coaster Inferno, che fa coppia con il suggestivo spettacolo omonimo Inferno Show, nonché la versione a tema dark di Gang Sob Musical.